Allora facciamo una grossissima premessa, prima lasciate un like, prima della premessa like d'obbligo per supportare il canale, grazie mille a tutti quelli che lo faranno. La premessa è che io ne parlo perché è l'argomento del giorno, tantissimi di voi, tanti milanisti mi hanno chiesto la mia opinione sulle parole dette da Furlani all'intervista a Dazon e quindi io ne parlo per questo motivo. Ma per me l'intervista di Furlani vale come un cross di Calabria, quindi è questa l'utilità dell'intervista di Furlani. Non mi aspetto neanche più ormai che in queste interviste dicono qualcosa di importante, dicono qualcosa di rilevante perché ripetono ormai la stessa pappardella a memoria finché non arriveremo a fine stagione e poi vedremo le reali intenzioni di questa società, cosa vorrà fare sul calciomercato, cosa vorrà fare con l'allenatore perché tutto quello che dicono adesso ragazzi non conta nulla. Le parole di Furlani confermano ancora il fatto che stanno ormai proprio sparando nel vuoto. Parlando innanzitutto dell'allenatore si narra sempre di questo grande campionato del Milan, io non lo vedo questo grande campionato del Milan, sì siamo secondi, ci stiamo qualificando in Champions League senza dover soffrire più del dovuto, veniamo da una stagione in cui eravamo arrivati quinti, quindi non una stagione positivissima, quindi in campionato diciamo abbiamo fatto quello step in più ma non è quello che chiede il tifoso del Milan, il tifoso del Milan chiede di lottare per lo scudetto perché se no te devi fare tutto esaurito a ogni partita per lottare per il secondo posto, onestamente non ne vale neanche tanto la pena. Quindi San Siro, i milanisti hanno sempre risposto presente in casa, in trasferta davanti alla tv, ci sono sempre stati a tifare Milan nonostante quest'anno non siamo mai stati in corsa per lo scudetto. Quindi in campionato si può dire qualcosa di decente, l'abbiamo fatto, ma parlare di una buona stagione direi proprio di no, Coppedale abbiamo fallito, in Champions League abbiamo fallito, in Europa League i discorsi sono ancora apertissimi, per questo non si possono ancora dare dei giudizi definitivi sull'allenatore, ma l'abbiamo capito un po' tutti, anche gli aziendalisti, anche qui su YouTube hanno ormai capito che il futuro di Pioni dipende molto da come andrà a finire l'avventura europea del Milan. E non parlo soltanto di battere la Roma e qualificarsi, che comunque sarebbe una bella gioia, ma non ti porterebbe comunque a nulla se poi alla semifinale le prendi di santa ragione. Almeno una finale europea la devi giocare per poterti giocare una conferma. Però da chi eravamo passati a Pioli non sarà più l'allenatore del Milan 100%, già si facevano i nomi, a Pioli è confermato al 100% qualunque cosa faranno i derby nell'Europa League non conta più nulla, comunque è confermato. Adesso credo sia uscendo fuori la realtà, cioè vediamo come finisce la stagione e poi decidiamo cosa fare. Quindi è questo alla fine, che mi parla di buona stagione, che mi parla di cosa volete che dica Furlani, no abbiamo fatto schifo, facciamo schifo, non venite allo stadio perché facciamo schifo. Ovviamente cerca di tirare l'acqua al suo mulino. Per poi non parlare del calciomercato, che è stata ancora più ridicole le dichiarazioni, perché molti oggi si sono svegliati scrivendomi Fred, hai visto buone notizie, Furlani ha detto che i tre big il Milan non ha bisogno di venderli. Ok, va bene, adesso voi dormite sonni sereni perché Furlani in un'intervista a Dazon ha detto che i tre big non vanno venduti? Cioè io vi aggiungo anche che oltre ai tre big non vanno venduti, ha detto anche che hanno dei contratti lunghi. Quindi falso, falso, fake, non hanno dei contratti lunghi. Magnan e Teo Hernandez bisogna parlare di rinnovo perché hanno il contratto che gli scade nel 2026 e Magnan prende ancora una cifra ridicola per il valore del calciatore e non è che ci stia andando tanto vicino con rinnovo. Invece di dire non abbiamo bisogno di vendere, non abbiamo bisogno, poi non è detto non li venderemo, ma non abbiamo bisogno come il tipo, non siamo costretti. Però poi quest'estate spunterà la favoletta del se vuoi fare mercato, se vuoi comprare giocatori bisogna sacrificare qualcosa a stile Tonali, no? Allora con Tonali ci è andata bene perché poi sappiamo, squalifica cose, abbiamo comprato dei buoni giocatori come Renders, Love2C che è stato sostituito bene, però adesso io credo che questa narrativa del dobbiamo vendere un big per fare il mercato, buh, secondo me si potrebbe di nuovo riproporre. Ma dovevi parlare di rinnovi, devi dirmi con Magnan siamo vicini al rinnovo, con Teo stiamo parlando del rinnovo. I rinnovi non vi preoccupate, non contratti lunghi, ma quali contratti lunghi? Ma oggi come oggi, se tu l'anno prossimo avranno due anni di contratto, no? Perché faranno 2024-2025, 2025-2026. L'anno prossimo, già se tu non rinnovi, quest'estate l'anno prossimo saranno a un anno che vuol dire quasi scadenza ormai nel calcio moderno, lo sappiamo. Quando si va a un anno di contratto o lo svendi o il giocatore fa quell'anno così a cazzo di cane e poi se ne va. Quindi non stiamo parlando di contratti lunghi, contratti lunghi è avere 3-4 anni di contratto in cui puoi permetterti per una stagione di stare tranquillo e non dover discutere di rinnovi. Quindi anche questa roba del i3big non si muoveranno, è una cazzata clamorosa e invece di parlare di rinnovi si parla di ste minchiate come il Milan non ha bisogno e io ragazzi onestamente non dormirei sonni tranquilli. Poi ha detto che non ci sarà una rivoluzione sul mercato e su questo è forse l'unica cosa su cui gli si può credere perché il Milan la rivoluzione grande l'ha fatta già quest'estate però bisogna vedere come arriverà il Milan alla prossima stagione cioè arriverà ancora con Pioli allora se arriverà ancora con Pioli sicuramente uno o due innessi ci saranno ma il telaglio della squadra sarà quello arriverà un nuovo allenatore, bisogna vedere come gioca, con che modulo gioca quali giocatori lo convinceranno se magari viene un nuovo allenatore e ti dice io voglio un giocatore che mi faccia 30 gol la stagione e possiamo andare a sacrificare magari un portiere possiamo andare a sacrificare un terzino che ne sai cosa può succedere quindi secondo me è un cantiere aperto e se qualcuno si aspettava delle parole clamorose di Furlani no ragazzi non ce ne saranno come non ce ne saranno da qui fino alla prossima stagione quindi ogni volta che vedete un dirigente del Milan fare una dichiarazione fare un'intervista non state lì con l'ansia di sentire che cosa dirà perché tanto ormai diranno sempre le stesse identiche cose come quando fanno le conferenze stampa pre partita dicono sempre le stesse identiche cose con domande preparate a volte c'è una domanda fuori dal coro e poi quel giornalista non lo vedi più sparisce tipo quello che gli fece la domanda del 505 cose che magari più si anche risente di qualcosa che poi è evidente lo vediamo tutti e lui non fa nulla per migliorare questa situazione quindi dichiarazione di Furlani totalmente inutili il futuro di Pioli ovviamente è legato all'Europa League ma io sono convinto che non è legato alla partita di giovedì ma è un po' più lunga la situazione per me deve almeno arrivare in una finale europea per poter dire la sua in campionato ormai che cosa devi fare di più non devi fare nient'altro oltre a evitare le figure di merda come quella che abbiamo fatto contro il Sassuolo e niente ragazzi fatemi sapere la vostra se dopo le dichiarazioni di Furlani dormite un po' più tranquilli e se pensate veramente che il Milan non venderà le sue tre big sull'attaccante ragazzi sono un po' preoccupato per queste dichiarazioni perché dire non compreremo un giocatore spendendo tantissimi soldi ma faremo un po' di di innesti al momento giusto sì ma l'attaccante devi pagarlo cioè l'attaccante cioè non c'è ma quanto tempo è che non abbiamo l'attaccante? e abbiamo campato con Ibrahimovic cercando di far tirare la carretta a Ibrahimovic solo per il nome però era evidente che Ibrahimovic non è che potesse dare più di tanto abbiamo fatto la stessa cosa con Giroud quest'anno abbiamo campato di rendita su Giroud per il nome di Giroud ma alla fine abbiamo visto che non è stato all'altezza Giroud Jovic non è un calciatore da Milan può fare sì la riserva e va benissimo così se dovesse essere confermato come riserva ma il Milan serve un attaccante un vero attaccante e non si può campare di rendita sui vari Ibrahimovic che comunque dobbiamo ringraziare specialmente Giroud che ha spezzato la maledizione del numero 9 ma il Milan deve andare avanti e questo è l'anno di andare avanti e se tu sbagli il centro avanti hai sbagliato già tutta la stagione quindi andare a prendere una scommessa in attacco io credo sia l'errore più grande del mio il Milan si deve concentrare lì molti dicono e sì la difesa la difesa ragazzi con un allenatore diverso io sono convinto che con gli stessi giocatori la difesa non è male chi parla di difesa scarsa del Milan non ha capito nulla è il modo di difendere del Milan che è scarso non sono i calciatori Tomori Ciao se si riprende Caluru se si riprende Gabbia che sta giocando molto bene non sono giocatori scarsi è il modo di difendere del Milan che fa cagare e in questa difesa qualunque giocatore tu ci metterai andrà sempre in difficoltà perché andare a difendere con la difesa a 70 metri dalla porta e non essere mai aiutata dal centrocampo e ragazzi trovarsi sempre negli uno contro uno e non è facile per nessuno qualsiasi difensore anche i migliori al mondo si troverebbero in difficoltà poi i nostri non stanno facendo nulla per far bene però ripeto è proprio il modo di difendere che è sbagliato io sono convinto che con un centrocampo diverso con una difesa con un allenatore che difende in maniera diversa l'obiettivo principale del Milan l'anno prossimo se dovessimo cambiare allenatore sarà il centro avanti fatemi sapere cosa ne pensate sempre forza Mila bella like e iscrizione